Sì, devo andare avanti perché... niente, niente, devo andare avanti Comunque, Marco, abbiamo fatto un assalto, io e Ricky E... carino Va bene, lo farò Quello... Dacab si chiama? No, Dacab Ah, ecco, perfetto, quello che devo fare anch'io, perfetto Eh, ma lo dobbiamo fare tutti, sono quattro in totale Allora, cominciamo, aspetta, aspetta, aspetta la cominciamo, dai Perché adesso ce ne manca, ci manca, sala dell'Eco su Venere Io devo fare Dacab caduta, quella sulla Terra Esatto, noi abbiamo i due sull'astro corazzata e uno su Venere Eh, ma infatti qua, dice, l'iello 37 è solamente esperienza Non si può manco selezionare un'altra difficoltà E quindi, sono esperienza No, no, vai, noi iniziamo, Ricky Vai, vai Partiamo Io adesso punto entro notte a potenziarmi... Sì, comunque c'è il matchmaking, anche se l'ho fatta in due Cazzo, io ho avuto una sfiga, ho preso due pacchetti di un'orbita morta Uno dell'avanguardia e uno del crogiolo E non mi hanno dato gli stivani che mi servono leggendari Esatto Ho dato solo le braccia che già ce l'ho Il casco che mi serviva e la pesante intragliatrice Eh, almeno sei cresciuto di luce, però Io sei, hai 236 Ho 236 Quanto? 236 Eh, vedi Lo sa di più di tanto Eh, ho fatto tutti gli incoming che avevo È vero, ho gli incoming io ancora Ne ho 5,5 E cosa si fa con gli incoming? Ah, io sono Di esperienza di cosa? In generale o di qualche cosa in particolare? In generale Ah, ok Vabbè, in generale che è? In generale si è già il 40, quindi che devi salire? No, però per il coso Ah no, non sali solo di esperienza, sali anche di livello di grado nella... Nella parte del sistema è spacciata Nelle fazioni Con gli incoming Prego, tu registri l'assalto, giusto? Sì Dobbiamo mutare Dario e coso o non fai niente? No, ma va Ok A posta E... ma cos'è sta storia degli incoming? Eh, non vedi che ci hanno dato degli incoming, eh Mentre giocavamo No Ma sì, ma anche quelli vecchi, cioè che usavano Quelli vecchi che giocavano Ho capito cosa fanno Ti dà un'esperienza No, ti aumentano la recutazione della variazata Sono come quando... Esatto, come quando si è passati da... Da un DLC all'altro che dava... Avevamo gli incoming che servivano un tempo per comprare le armi e armature Nessuno di noi li usava mai e quindi loro li hanno trasformati in reputazione per le pozioni Ah ecco, io infatti non li ho mai carriera Ecco, ma la cosa della bella spada quando le fatte, cioè quando... Eh, raga, mi sono dimenticato, poi vi do... Eh, Dario, mi stanno la mando Ma non c'è un'accordo Aspetta, aspetta, mi alzo lo so Sono tre... tre lave Ma dov'è che sei, te hai quel tipo là? Ma dov'è che sei, te hai quel tipo là? Ah beh, madonna si sono già... Ma dov'è avanti Ma mamma mia, c'è alcun orco Io ho trovato qua dei cavaliere a livello 36 Ma questo qua è l'assalto che hanno fatto vedere nello streaming di Twitch l'altra volta Sì, vabbè, ma se... io metto... le sintesi per... la pesante, eh Arrivo con la pesante Questo qua è l'assalto che hanno fatto vedere nello streaming Ah, quindi ci sono i due tipi diversi? Eh, sì Cavolo, fossimo in tre, ci coordineremo meglio per le super Mamma Mi ha aperto Il tizio là è andato avanti, eh Mi raccontro valla Sì, 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 è un enenamento pubblico, qua Abbiamo detto che è un enenamento pubblico No, 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 non è una ene Un esplorzamento De l'assalto Fa parte dell'assalto Fa parte dell'assalto, vai E' un particolarmente strano, è l'assalto Eh Mi trovo anche quest'altro che è andato avanti, forza miseria quant'è bella la missione da fare nella volta di vetro si eh, deve averla fatta ancora devo farla io ah, deve ancora farla grazie eh però non è una missione della storia, è una missione secondaria osti ma com'è che la navicella ha sparato da me? oh, ma come, ma come, ma dai alberta c'è il carro armato c'è il carro armato? perché ha portato un carro? ma parlate col mio martello bello, bello, bello dovevate vedere con me, alber e filippo, ci mettevamo d'accordo, avevamo sempre da su ragazzi, giocare con filippo è difficilissimo ho giocato tutto il giorno difficilissimo è un modificatore si, esatto si, se no è la perca sbloccata però non ce la fai e chi dove vai all'assalto, Ricky, non c'è mai la nata eh, un po' un po' presidio qua c'è un fornello gigante io vedo tutto scarso tra poco attivo la super ma io sono andato dietro, sono andato dietro al cosa di qua, di qua, di qua, di qua, di qua, dove? da dove? da qualche rack che si può andare anche dietro ho passato da dietro, vediamo se riesco a tirare di giù dovresti andare ah, qua su io sto usando la superaglia io sto cercando di fargli muovere le gambe no, l'ho fatto, porca miseria, son caduto ho fatto ho fatto ho fatto ho fatto ho fatto ho fatto lo so colpendo le gambe, lo so colpendo le gambe è andato che mi dici ultimo guardiamo? qua ci sta uno spettro Marco quando è andata male? ho fatto procediamo verso il ponte vediamo se riesco a prenderlo si sente nelle grotte? si sente nelle grotte? si sono i corrotti qua si sono a 41 fai attenzione mancano 9 ho preso il plasma e dice arriva questo genio ahia ma quanto togli con quel tuo fucile automatico? ehm alla testa questi qua 700 760 si ma cioè adesso che è un po' di stabilità per via di equilibrio perfetto si può usare ma senza equilibrio perfetto sbloccato mamma mia è ingestibile ahia cioè devi proprio lavorare tanto su oh mamma quanti sono là dentro per il ponte siamo andati i fratelli non sono quelli eh adesso ci arriviamo andiamo avanti ah però gli tolgo 760 però senza avere senza avere cosa altro ho messo nero martellante ho messo nero martellante ho messo nero martellante ragazzo ci fa ah distruttibile no no dovete lanciare la granata contro dentro il buco che avete davanti noi abbiamo abbiamo consumato super ma di compagnie struttibile guarda ah la granata nel buco ah nel buco ah nel buco va tirata ma non c'è ma non ci voglio non mi sentire pure io ero appena stato non mi sentivate se mi sento non ti sento lo scatto di chi si sente volessi mi sbatti qualcosa non quadra come si capito oh bravo è una cosa anche di una riscoperta è un po' di qui arriva il difficile se sono ordini in calia ho fatto un pacchettino anche io l'azionata eh qui è duro qui come vera adesso mi devono chiamare no dai vedo che i fratelli sappiano che siamo qui no, l'altro lato boia che attacco ma chi è? è un po' subbossata qua ok adesso adesso si può attaccare di qua, di qua, di qua no, di qua siamo venuti mi ha fatto cadere di sotto ah, si va di sotto arrivo madonna ma mi è passato sotto ma ma ci sono nemici? guarda guarda che arriva ma interrompere il flusso occhio che arriva ah ci sono anche nemici ora eh, occhio uh, aspetta che uso la subboss no, la sto usando io ma ci sono nemici? eh, difendimi perché devo andare indietro no, se ne sta andando ok adesso si ritira un attimo questo è tornato con il fotografico raga dovete difendermi dai, dai, stai arrivando, stai arrivando questo morando pure io andiamo, 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 andiamo prendi, prendi qua ah, meno male, c'ho c'ho la granata, va, meno male eh, ero in università non la lanciano a guardare ciò 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 eh, si ah, questo qua è quello che lanciano a guardare i cosi bene eh, si eh, direi va bene, saluta il nonno bravo sì ah, ciao ci trovano albi mi senti? mamma mia che tu ti feghe eh sì, ti sento solo che è già un casino qua ah, ma sto assalto qua è divastante e qua vabbè che no ho più in terra le cose ma non gli faccio danno io eh sì che gli fai danno no non gli scelta ora sì sì che ti vuoi sì, sì, sì ok, adesso è immune se ne sto andando ammazza i nemici, ammazza i nemici in realtà c'è un po' di spie qua c'è quello giallo qua c'è quello giallo vieni da me, da me figata eh, non lo sono fatto in tempo lo faccio io lo faccio io adesso lo supero eh vai sì eh, però non lo ha morto adesso è un po' di spiega è riuscito ancora ne ho visti dove è sto cazzo di spiega dove è sto cazzo di paga? ah eccolo qua eccolo qua conviene ammazzare prima ah no bisogna ammazzare prima questo sì ah c'è un cazzo di questo qua che attacca con l'incendiato tanto sta per morire bisogna solo stare attenti ai colpi dall'alto del protel ah va che il tizio è morto vado io vado io sub aspetta che uso la sub nooo mi ha fatto cazzo di filastri nooo mi ha ucciso è la prima volta sto perdendo l'orientamento io ho tolto 11.000 di critico quella madonna dai tra poco la supero ok che crepa ok io ho fatto fuori due gialli ok andiamo a far fuori l'altro dai vai che non c'è lo scudo dai eh lo sto colpendo non ho visto me carcassismo mg4 dai manca poco nooo si si è morto bella ole pistola codice codice ti dicevo Marco, per prendere la spada, che cosa bisognava fare? Prendere le cose sul cosmodo, ma fare le varie... Trovare le varie pezze? L'astro corazzata. Praticamente devi andare in giro a casse. Oh, mamma mia. Eh, ma cos'è che devi trovare? L'elemento devi trovare? Ad mio. Ah. E questo è fatto. Ma facciamo un altro. Indiano. Anche noi abbiamo fatto da avanti. Arrivo subito. Madonna. E anche io, va, Marco. Un minuto e torno. Aspetta un attimo, torno subito. Vai, c'è la torre, intanto. Niente, ascolta. Arbisci. Arbisci.